Amici di Mitico Channel, un caro saluto da Francesco da Prato. E allora il Foggia vince 4-1 contro il Potenza e si lancia in classifica al secondo posto insieme al gruppone che insegue il Monopoli. Diciamo subito che è stata una partita straordinaria per il Foggia, soprattutto in quei 5 minuti che sono passati tra il gol di Peterman del 2-1 e il 4-1 straordinario di Cuscio. Per alcuni tratti mi è sembrato personalmente di rivedere le vecchie immagini del Foggia di Zeman, di Signori, Baiano e Rambaudi. Ma riavvolgiamo il nastro, la partita comincia a sprombattuto per il Foggia, Zeman a sorpresa toglie Peterman e Merola e fa giocare Gallo con Maselli, cambia anche un po' il tridente. Il Foggia parte alla grande, sfiora il gol anche se c'era un fuorigioco con Mercai, poi su una verticalizzazione Cuscio, Mercai, Ferrante di testa passa in vantaggio per 1-0. Per tutto il primo tempo il Foggia continua a macinare azioni da gol, rischia anche qualcosa nelle ripartenze del Potenza, ma insomma va a riposo meritando il vantaggio che avrebbe potuto comunque rinforzare. Sempre con Ferrante che ha un'occasione e su un diagonale si fa parare il tiro dal portiere del Potenza, nel secondo tempo cala un po' la tensione, sembrano affaticati i ragazzi di Zeman. Infatti il Potenza prende il palino del gioco e raggiunge il pareggio, un pareggio che avrebbe potuto addirittura portarlo in vantaggio perché si fa sotto la squadra potentina. Zeman corre ai ripari, indovina le sostituzioni, entra Peterman che cambierà la partita perché tutti aspettiamo Kraken, ma abbiamo visto che abbiamo un ragazzo che riesce a fare dei gol straordinari da fuori aria. Peterman fa il 2-1, sveglia i ragazzi di Zeman, esordisce anche Di Grazia. Bene, il Foggia triplica con Merkai in un'azione alla Zeman, sempre in una velocissima verticalizzazione partita da un'azione insistita di Rocca. E poi il quarto gol da copertina con un cuccio sugli scudi che triangola sempre con Merkai e segna un gol straordinario. Dopo che sull'1-1 aveva sbagliato, un'occasione abbastanza simile, sembrava stanco cuccio ma il gol lo ha galvanizzato, poi sarà sostituito. Ma insomma abbiamo capito, amici di Mitico Channel, perché l'Avellino e il Modena hanno fatto tanto per strapparcelo. Ha fatto bene Zeman a volerlo assolutamente affoggi, ha fatto bene Canonico a tenerlo e a confermarlo. Per i prossimi due anni abbiamo un fuoriclasse, a mio avviso, in squadra, ma non è il solo. Mi sono piaciuti tantissimo oggi i giocatori del Foggia in tutti i ruoli. Non troverei il migliore in campo, che magari forse potrebbe individuare in curcio, ma tutta la squadra, a tratti, ha giocato veramente alla grande, alla Zeman. Molti hanno detto, abbiamo rivisto Zeman l'Andia, bene, se non dovevamo abbatterci dopo la deludente prestazione di Monterosi, non dobbiamo esaltarci dopo questa straordinaria vittoria. Per assurdo, Bari e Foggia hanno incrociato gli avversari. Il Potenza, che aveva messo in difficoltà il Bari, oggi ha perso a Foggia per 4-1. Il Monterosi, che aveva messo in difficoltà il Foggia, ha perso 4-0 a Bari. La dimostrazione è che, cambiando l'ordine dei fattori, il prodotto cambia nel calcio. E quindi, fare dei paragoni è difficile. Siamo soltanto all'inizio, come diceva Zeman, ma per quello che mi riguarda, mai ho visto una squadra di Zeman, già alla seconda partita di campionato, giocare così bene come ho visto giocare oggi il Foggia, a tratti, nel primo e soprattutto nel secondo tempo. Io la vedo così. Un caro saluto da Francesco D'Aprato, a tutti gli amici di Mitico Channel.